I carabinieri di Sulmona stanno indagando sui motivi che hanno scatenato l'incendio e danni dell'auto dello storico collaboratore del centro e corrispondente ANSA Claudio Lattanzio. In tanti stanno esprimendo solidarietà al giornalista e fotoreporter che nella notte del 14 agosto ha subito questo grave danno al suo SUV, una Honda Civic CRV andata completamente distrutta. Io stavo dormendo, ho sentito soltanto mia moglie che mi diceva Claudio svegliati perché sta succedendo qualche cosa, sento delle voci fuori dal palazzo e mi sono affacciato lì a quella finestra a terzo piano, quarto piano e ho visto le fiamme dell'auto che arrivavano quasi a metà edificio. Di certo non si è trattato di un'autocombustione perché la macchina era ferma qui da un giorno, un giorno ferma, dopo di notte le tre con la temperatura che si era abbassata, non era la temperatura calda dei giorni scorsi e allora è stato molto improbabile il cortocircuito. Sta seguendo delle inchieste particolari in questo momento? Ma io l'abbiamo fatto la sera stessa, la notte stessa con i carabinieri un po' il punto della situazione, cercando un po' di capire se qualcuno o qualcosa poteva aver dato fastidio alla mia attività, avesse potuto dare fastidio a qualcuno o qualcosa. Il mese scorso non manco ci avevo fatto caso, ho ritrovato la macchina tutta graffiata da un lato qui. I vicini riportano che hanno udito un forte buato e visto le fiamme intorno alle 2.30 a seguito del quale sono scesi nel cortile dal condominio dove erano parcheggiate anche le loro vetture. Uno di loro, che vive al primo piano, è immediatamente dato l'allarme. Ho visto il fuoco davanti alla macchina e anche sopra la macchina. La parte anteriore era già incendiata, dopo di cui ho chiamato i carabinieri che a loro volta hanno chiamato i vigili del fuoco. Nel rogo è stata coinvolta anche un'altra auto parcheggiata a poca distanza. Quando sono venuta qua ho visto la macchina del signor Lattanzio che andava in fuoco. Purtroppo c'era la mia macchina e la macchina del compagno, che è la presa pure laterale. Resta in piedi la pista di un cortocircuito, anche se l'ipotesi più probabile sembrerebbe quella di natura dolosa. Adesso i carabinieri stanno lavorando per capire se le inchieste del giornalista abbiano potuto suscitare la reazione di qualcuno. Tra le numerose espressioni di solidarietà anche quella del sindacato dei giornalisti abruzzesi, la redazione dell'ANSA Abruzzo e Molise e la redazione del centro e l'ordine dei giornalisti.